nell'estate del 1922 la violenza del partito nazionale fascista dilagava in italia poche città riuscirono ad organizzare una resistenza a parma la popolazione dei rioni dell'oltre torrente e del naviglio saffi innalzò barricate scavò trincee per difendere le proprie case rivivi la storia e vesti i panni dei civili porta a termine le missioni scopri di chi puoi fidarti e costruisci le barricate le barricate parma 1922 il gioco da tavolo di come la sfoglia da due a otto giocatori grazie a tutti